Vi confesso che sono un po' deluso, non dalla partita in sé perché la partita secondo me è stata molto bella, mi sono divertito veramente un sacco però credevo di vedere una partita tra due squadre dello stesso livello questa sera e invece mi dole dirlo una delle due si è dimostrata di un altro pianeta rispetto all'altra, il PSG ha dimostrato di avere una grande solidità di avere dei giocatori fisicamente molto forti nonché di grande talento e a tratti secondo me ha fatto vedere grande calcio va detto perché comunque parliamoci chiaro hanno un giocatore che in questo momento secondo me è qualcosa di surreale un giocatore che a detta di qualcuno nelle grandi partite tende a scomparire no perché il web è un posto magico il web è un posto magico perché si riesce a mettere in dubbio anche Kylian Mbappé cioè si riesce a dire Mbappé deve ancora dimostrare di essere un top over the top cosa debba dimostrare ancora Kylian Mbappé? Non lo so Mbappé? Sì ma insomma fino ad ora diciamo che a volte nelle grandi partite tende un po' a scomparire risposta del signor Kylian Mbappé tre gol al Camp Nou contro il Barcellona di cui c'è uno abbastanza dai ragazzi abbastanza unreal che il primo gol al di là dell'azione splendida dell'assist meraviglioso di Verratti ma il primo gol è un capolavoro di freddezza, tecnica, potenza e velocità cioè il primo gol è un capolavoro assoluto di un giocatore che non va messo minimamente in discussione parliamoci chiaro Kylian Mbappé è palesemente uno dei primi 3-4 giocatori del mondo diventerà uno dei giocatori più forti della storia e chi dice il contrario mi duele dirlo non deve seguire il calcio ma deve seguire il cricket deve seguire il tennis perché quello è il suo pane per dirla molto semplicemente però al di là di Mbappé al di là dei grandi meriti di un PSG che ripeto mi è piaciuto un sacco soprattutto nella ripresa con l'ingresso di Ander Herrera al posto di Ngué la palla ha iniziato a circolare in maniera molto più fluida il contropiede è diventato veramente letale già lo era stato comunque all'inizio però devo ammettere che il PSG mi ha stupito non pensavo... allora io credevo tra virgolette che il PSG fosse un po' più forte ma pensavo quantomeno che la prima partita sarebbe stata equilibrata invece mi duele dirlo l'equilibrio non c'è stato il PSG è una gran squadra allenata da un allenatore molto bravo che ha saputo diciamo darle un'identità davvero ben definita e con tanti italiani in squadra perché oltretutto il PSG non è solo Kylian Mbappé ma anche in rosa Florenzi, Verratti, Moise Ken Moise Ken che stasera ha anche segnato un gran gol e ha giocato una partita secondo me splendida quindi un PSG anche molto italiano per citare Boris una squadra molto bella che mi ha fatto divertire divertire tanto quindi complimenti al PSG per questa splendida impresa complimenti agli italiani complimenti anche a Mauro Icardi evidentemente disperato per avere dovuto lasciare l'Inter e approdare in questa squadretta però bisogna anche parlare di una squadra che ha palesemente al capolinea cioè il Barcellona è una squadra ragazzi finita il Barcellona deve capire che deve voltare pagina cioè il Barcellona è una squadra che in questo momento viaggia sempre in questo limbo tra quello che era e quello che potrebbe essere compra sempre tanti giocatori nuovi ma alla fine gira e rigira le chiavi della squadra in mano le hanno sempre Messi, Piquet, Busquets eccetera eccetera è una squadra costruita evidentemente male è una squadra a cui stasera è mancato tremendamente un centro avanti e io faccio fatica veramente a comprendere perché abbiano dato via uno come Suarez cioè hai uno dei centravanti migliori del mondo lo dai via a zero complimenti bravi però spendi 100 milioni non so quanti cazzo ne abbiano spesi l'anno scorso per comprare Griezmann così tanto per scambi Arthur con Pjanic però alla fine giochi contro il Bayern Monaco e ne prendi 8 giochi contro la Juve e ne prendi 3 giochi contro il PSG e ne prendi 4 ragazzi c'è è anche abbastanza evidente che questa squadra proprio oltre ad avere grossi problemi proprio di autostima proprio a livelli di gruppo perché un gruppo palesemente proprio ormai alla fine è una squadra pure proprio squilibrata in quel senso cioè è una squadra proprio che non regge non c'è una difesa l'englet mi vuole dirlo non è un giocatore che può stare a sti livelli Piqué ormai Piqué è grandioso è stato un gran difensore basta fine Jordi Alba adesso due terzini troppo offensivi troppo offensivi entrambi almeno da un lato devi provare a tamponare in un certo modo loro non lo fanno mai e il PSG stasera è stato distrutto loro allora il PSG scusate li ha distrutti in ogni senso come equilibrio come gioco come partita e come tutto la partita è durata 20 minuti i primi 20 minuti si pensava potesse essere in un certo senso equilibrata poi dopo il rigore il primo tempo è stato solo PSG il secondo devo ammetterlo è stato forse dopo il 3 a 1 c'è stata un po' di partita ma niente di che e a questo punto ripeto salvo cataclismi epocali oserei dire che la qualificazione non è in dubbio voi direte ma hanno fatto il 6 a 1 anni fa ragazzi buonanotte sono finiti quei tempi l'altra partita invece non l'ho vista perché io ho seguito su Twitch soltanto questa a proposito vi ricordo che domani seguirò in diretta su Twitch anche Juve Porto quindi link in descrizione ragazzi trovate il link a Twitch domani guardiamo Juve Porto insieme l'altra partita invece Liverpool la vince all'Ipsia da quello che ho potuto capire una partita che Liverpool ha vinto in maniera abbastanza meritata nonostante tanti problemi a livello difensivo perché Liverpool era senza Van Dijk senza Gomez senza Matip senza Fabinho e giocava con il nuovo arrivato Kavak e con Anderson adattato a fare il difensore centrale con un Alisson tra l'altro che negli ultimi tempi ha avuto anche molti problemi di rendimento diciamo in un contesto del genere in un momento non proprio facile per il Liverpool diciamo una vittoria 2 a 0 all'Ipsia contro una squadra comunque forte ostica sicuramente un bel segnale è un Liverpool che prenota di fatto i quarti come diciamo avevo anche pronosticato quindi insomma ragazzi questa è stata la serata di Champions io a questo punto vi auguro una buona notte vi ringrazio vi ricordo che da adesso potete anche abbonarvi a questo canale per avere dei video interamente dedicati a voi due video a settimana interamente dedicati agli abbonati vi rinnovo a questo punto l'appuntamento a domani sera Twitch per seguire Juventus Porto vi saluto buonanotte e sempre forza Milan nonostante il Milan non c'entri in cazzo in questo momento vi saluto vi saluto Grazie.